Urrà è un disegno che arriva immediatamente, non ha bisogno di particolari spiegazioni, parla con i colori e attraverso un tratto impulsivo. Illustrare questi animaletti, anche meno comuni, è stato un processo spontaneo e naturale, forse proprio per questo il risultato mi ha subito conquistata. La creatività deve essere spontanea, come i bambini. There was a game we used to play, we would hit the town on Friday night, stay in bed until Sunday, we used to be so free, we were living for the love we had, living not for reality, just my imagination, just my imagination, just my imagination. Just my imagination, just my imagination, just my imagination, just my imagination, it was. That was the time I used to play, I have always kept my faith in love, it's the greatest thing from the man above. The game I used to play, I've always put my cards upon the table, Never be sad that I'd be on the table, just my imagination, just my imagination.